Ad un mese dalla via della raccolta firme, per quanto riguarda la petizione sui rifiuti, quali sono i risultati conseguiti? I risultati dal punto di vista della petizione sono ottimi perché abbiamo raggiunto quasi 900 firme, quindi siamo più che contenti e ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno aiutato per portare avanti questa iniziativa veramente importante. Il problema rimane che è quello dei rifiuti che effettivamente è sentito da tantissimi, indigna tantissimi, qui in questo modo non si può continuare, quindi noi appunto chiediamo, forti di questo sostegno dei cittadini, chiederemo in consiglio di modificare quella delibera tanto contestata, introdurre da subito la tariffa puntuale, ossia che l'utente paghi per quanto riguarda la produzione effettiva dei rifiuti indifferenziati conferiti. Poi chiediamo che il nuovo socio della tema non sia un gestore della discarica in Abruzzo, perché ha interessi totalmente divergenti rispetto a una buona raccolta differenziata, che gli obiettivi di raccolta differenziata siano aumentati perché quelli messi sono effettivamente risibili, che il mancato raggiungimento di questi obiettivi comporti delle sanzioni al gestore e così come comportino delle sanzioni al gestore tutte le inadempienze di trasparenza e il fatto che questo gesto, questa TEAM, compreso il Comune anche, non diano risposta agli accessi agli atti dei consiglieri, cosa che è un obbligo di legge. Poi un'altra cosa vorrevo dire, che vi sono alcune associazioni che si dichiarano ambientaliste, ma che effettivamente su questo tema non si sono fatte sentire né in autonomia né su nostra sollecitazione per sostenere la petizione. E sono ad esempio WWF Teramo e l'associazione rifiuti zero Teramo, che non solo non si sono mosse in autonomia, ma neanche hanno rifiutato di sostenere questa petizione. Grazie a tutti.